Il nostro ospite Renato Bassan, direttore dell'unità operativa dell'ospedale all'Angelo di Mestre. Buongiorno dottore. Buongiorno. Parliamo con lei dell'iniziativa che conosciamo, si fa da tanti anni, delle uova di Pasqua AIL. Come mai resta così importante? È estremamente importante perché AIL, essendo un'associazione volontaria dedita al supporto dei pazienti ematologici con leucemia, linfoma e mieloma e ai reparti che si occupano di queste patologie, raccoglie le donazioni, i contributi spontanei dei nostri concittadini e fornisce un supporto essenziale a varie attività e a vari bisogni dei pazienti con malattia ematologica. Il concetto base è che molte delle attività più avanzate, soprattutto nel campo della ricerca, sia di laboratorio che clinica, non sarebbero attualmente possibili senza il contributo fondamentale di AIL e quindi via diretta di tutti i cittadini che contribuiscono a questa bellissima iniziativa. Ecco, ricordiamo, AIL è l'associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi e grazie all'iniziativa della solidarietà delle uova è riuscito in questi anni a pubblicare 221 studi scientifici ogni anno finanziando 136 centri ematologici, il che poi si traduce in cure sempre migliori. Certamente in medicina, medicina è una branca della scienza, l'unico modo noto e certificato di progredire sul piano terapeutico è quello di sviluppare via via successivamente studi clinici che testino le nuove formulazioni terapeutiche e ne dimostrino scientificamente le migliorie e quindi vengano introdotte come nuovi standard terapeutici. Senza questa attività che deve essere svolta obbligatoriamente negli ospedali che hanno reparti di ematologia ben attrezzati e di punta non vi sarebbe alcun progresso e resteremmo fermo ai trattamenti di molti anni fa. In termini di speranza di guarigione e anche di miglioramenti che vi potete attendere, quanta strada è stata fatta? Rispetto a quando io mi sono laureato e ho iniziato parliamo della fine degli anni 70, per me quello che ho visto è stato inimmaginabile per alcuni sottogruppi di malattie gravissime per le quali la speranza di sopravvivenza era illusoria, parliamo delle leucemie acute più aggressive nell'adulto, attualmente abbiamo una percentuale di cura che si situa intorno al 50%, nei bambini il progresso è stato straordinario per le forme più diffuse, parliamo di guarigioni al 90% e più o meno tutti i vari sottogruppi, ce ne sono tante, di malattie ematologiche gravi hanno subito questo tipo di evoluzione con progressi notevoli. Un'ultima domanda velocissima, dottore col Covid riuscite a lavorare come sempre o si fa fatica? Lei prima ha citato la giornata commemorativa a Bergamo, io sono particolarmente vicino a quella città perché prima di arrivare nel Veneto vi ho lavorato per 25 anni e so benissimo cosa è successo all'ematologia di Bergamo, è stata semplicemente devastata con tutto ciò che ne consegue. Qui in Veneto siamo stati un po' più fortunati, abbiamo cercato di mantenere il nostro livello operativo ma certamente per le varie restrizioni, per i problemi degli altri reparti che ci aiutano nella nostra attività Non è facile, grazie, grazie mille a Renato Bassan, noi adesso restiamo in tema di medicina ma andiamo a vedere